buonasera questa sera faremo una tartare di salmone fresco sono circa due etti abbattuto a meno 20 gradi per 24 ore nella nostra pescheria sette mari di sette bagni poi abbiamo due arance una verrà usata per una tatolata e l'altra per il succo per marinare il salmone procediamo alla saturata di aranci mettiamo la parte centrale bianca ecco qua fatta la nostra tatolata di arancio procediamo a tagliare i nostri sarcetti di salmone che profumo ecco qui e si con li condiremo un po di sale dell'himalaya poco poco peve nero uguale faremo nell'arancio un po d'olio extravergine d'oliva e un po di succo d'arance e facciamo marinare per circa 10 minuti un quarto d'ora procediamo a fare la nostra tartare di salmone nel nostro coppa passa facciamo il primo strato di salmone così qua metteremo un po di erba cipollina senza esagerare facciamo uno strato di tatolata di arancia e sopra il restante salmone diamo un po di colore con la nostra erba cipollina e un po di sale ecco qua guardate che spettacolo spettacolo vero ecco qua guardate che spettacolo vero